Il nostro ospedale, le nostre asile, che abbiamo denunciato pubblicamente, sono stati messi lì volutamente. Chiediamo anche una commissione di chiesa sulle cause del disavanzo sanitario. Siamo commissariati, perché chi ci ha 15 anni nel 2016, il periodo elettorale non lo saprò, quando usciamo la commissaria, proviamo una commissione di chiesa che capisca come stiamo uscendo dal commissariamento, perché tagliamo gli ospedali, perché chiudiamo posti ne è durante questo periodo di commissariamento. Il piano di rientro, le gare centralizzate, le liste di attesa, il breakup, il caso della salute, un passo in avanti, una soluzione a tutti questi problemi. Vedete, le soluzioni le abbiamo già prese. Chiediamo che Zingaretti se ne prenda in carico, a di questo tavolo, data come se fosse l'ultimo movimento. Io approfitto per lasciare un attimo e soprattutto poi dopo lasciamo spazio alle domande. altro da dire, gli tempi sono questi. Ciao a tutti, sono Pierluigi in pedalo e sono, faccio la parte della sport salita del Movimento 5 Stelle. Praticamente abbiamo quei dati che dovrebbero essere in possesso di qualsiasi paziente. Se quando ci viene venduta il fondo a Spending Review, iniziale, quali sono stati i risultati di questa vendita, ci facciano un successo il contenimento di costi da Spending Review. Grazie. Grazie.